Ciao bellezze, è così finalmente ritornati con un nuovo video, oggi nuovo look, ho fatto un salto dal parrucchiere ovviamente sto scherzando, ho messo la parrucca, la mia parrucca dorata, bionda, che mi piace un sacco anzi fatemelo sapere anche voi, non lo so, mi sento molto Giulia Robles nel film With You manca questa parrucca e manca il maschetto comunque, comunque, qui stiamo prendendo in piacere come al salto prima di partire con il video, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciamo un bel pollice lì su se questo video ti è piaciuto e adesso direi di partire immediatamente con il video allora, intanto controllo di non avere tipo rossetto sui denti, sbavature varie, capelli a posto, vero? non la dovete sapere che io avevo già filmato questo video un like per me solo per questo, solo che ho perso la memory card e vai, e vai ma noi non ci perdiamo d'animo, assolutamente e rifilmiamo ho chiamato la mia amica appunto Tatiana con i capelli biondi per filmare questo video comunque, nulla allora, io ho fatto un bel po' di shopping natalizio volevo farvelo vedere partiamo, da dove partiamo? io direi che partiamo da OVS sono passata appunto da OVS ecco qua la busta, è bella piena io in realtà ho preso una cosa ma è davvero molto molto bella ovvero, qui parliamo di un maglione over bellissimo, eccolo qua tutto di Natale guardate quanto è fatto bene anzi, se cercate un maglione natalizio che sia bello tutto così con le paillettes vi consiglio di passare da OVS perché ne avevano veramente pochissimi anzi, questa era l'ultima taglia infatti ho preso una LXL pensate un po' io l'ho posto indossare anche come vestito con i leggings comunque, la fortuna voluto nella sfortuna ti perde la memory card che ho ancora i cartellini perché non li ho ancora messi questo è costato 34,99 da OVS ma è bellissimo guardate quanto è bello e poi è super caldo e bello comfy poi sono passata da ok, sono passata da H&M o H&M insomma ditemi voi ma io non capisco ho le luci accese però vedo buio dietro dovrei vedere il perché cosa ho preso da H&M un altro maglione natalizio davvero molto carino anche questo ancora non l'ho messo questo era in sconto però il cartello non c'è più comunque costava 19,90 19,90 risché è 29,90 per il Black Friday e qua ho preso invece un S perché c'era guardate quanto è bello con le renne è molto carino c'è scritto Merry Christmas Merry Christmas molto carino anche questo poi sempre da H&M ho preso questa che bella anzi adesso me la provo immediatamente questa è costata 9,99 queste cose erano ancora tutte impacchettate anche se il video l'ho fatto la settimana scorsa di YouTube tutto ciò è ancora nei negozi c'è che ho bisogno anche con i natalizi allora direi che la possiamo anche provare l'avevo lasciata intatta che bella fatemi guardare un po' è bellissima e poi suona anche ci sono tutti i campanellini no ma guardate quanto è carina no vabbè c'è bellissima ecco me la faccio vedere un po' meglio vabbè questa d'ora in avanti ci sono tutti c'è il pacchettino l'albero di Natale no vabbè il campanellino troppo carino mi piace un sacco poi poi questi invece già capodannisti sono degli orecchini questi 4 erano e 90 cioè vi consiglio assolutamente di andarli a provare eccoli qua guardate quanto sono belli cioè a provare a vedere cioè sono costati pochissimo 4 euro 90 a me piace un sacco perché arrivano lunghi praticamente fino alle spalle alle claviccole diciamo quindi sì mi piace un sacco ed è arrivato il momento di vedere cosa ho preso da Tezenis allora da Tezenis ho preso questa bralette bellissima quando l'ho vista allora intanto dovete sapere che mi trovo benissimo con le bralette di Tezenis perché sono belle imbottite se state cercando una bralette bella imbottita vi consiglio queste di Tezenis perché sono anche molto comfy molto comode e ho già questa che indosso per esempio è sempre di Tezenis bianca che adoro ed è comodissima poi sempre di Tezenis questo non è natalizio però vabbè adesso non ve lo faccio dello stesso è una magliettina lupetta anche qua c'è ancora il cartellino per fortuna costata 10,99 10,99 eccolo qua questo è termica quindi lana è un tessuto termico e c'è anche la lana ed è super fine secondo me è comodissima sia da indossare sotto i maglioni quando si esce ma anche in casa magari sotto al pigiama se siamo particolarmente freddolose secondo me è carina mi piace anche il colore il bordeaux poi a questo punto passiamo ad un acquisto che non è di abbigliamento ma indovinato un po' si tratta di un libro un libro ecco qua ho preso il nuovo libro di 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 so qui in sella i love shopping al natale eccolo qua non vedo l'ora di leggerlo e sì fantastico questo è perfetto per una lettura durante le vacanze appunto natalizie bellissimo io adoro leggere appunto i libri di sofficchi in sala chissà perché chissà perché comunque io spero che questo video vi possa essere piaciuto vi possa essere anche stata simpatica l'amica Tatiana ecco vero appunto Tatiana con questi capelli biondi vi è piaciuta solo per quello datemi un bel like che mi mando un bacio ci vediamo in prossimo video ciao ciao